Regina del Cielo, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto, come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, hai inondato di gioia il mondo con la risurrezione del Tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Per i meriti della Sua Madre, la Vergine Maria, concedi a noi di giungere ai gaudi della vita eterna. Per Cristo, nostro Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Mamma nostra cara, Regina della Pace, Regina della Famiglia, Donna del Più Grande Si, Donna del Magnificat, Raggiungi tutti coloro che in questo momento stanno pregando con noi e formano con noi una grande famiglia che prega. Asciuga ogni lacrima, conforta ogni cuore in pena, infondi fiducia. Tu sei mamma, facci sentire il calore e la concretezza della Tua maternità. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il primo mistero del dolore ci porta nell'orto di Gessemani. Gesù sta pregando e soffre, addirittura suda sangue, mentre prende su di sé il peso dei peccati di tutta l'umanità. Il santo cardinale John Henry Newman giustamente osservò soltanto un amore infinito poteva pensare e sopportare una simile passione, soltanto un amore infinito. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Raggiungi oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci presenta Gesù che viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro, ma i veri fragelli, se ci pensiamo bene, sono i nostri peccati, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente, che Dio ha messo nel mondo. Il profeta Esaia è arrivato a dire, a causa dei vostri peccati siete diventati un panno sporco, siete diventati foglie secche sbattute dal vento. Signore, aiutaci a riconoscere e a capire e a fuggire il peccato. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anni, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore, ci presenta Gesù che viene coronato di spine, deriso, umiliato, eppure davanti a Pilato, con divina sicurezza, Gesù ha affermato, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. C'è allora un altro mondo, c'è un'altra vita. E noi facciamo parte di questo nuovo mondo, nuova vita, e dobbiamo anticipare il compimento di questa nuova vita, con l'esempio, con la testimonianza della nostra vita. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Naci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso di loro è la nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso di loro è la nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso di loro è la nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso di loro è la nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso di loro è la nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore, seguiamo Gesù, che viene caricato del pesante legno della croce, che poggia sulle sue spalle, è diventata una piaga, a motivo della fragellazione, e si avvia verso il Calvario, non ce la fa più. Viene costretto un uomo, un contadino di sirene, che stava passando, viene costretto a portare la croce. Anche noi possiamo portare quella croce, possiamo aiutare Gesù a portare la croce, soccorrendo qualcuno che accanto a noi, forse in silenzio, sta soffrendo, e aspetta un nostro aiuto, almeno una parola. Guardiamoci attorno e facciamo subito un bel gesto di misericordia. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Il quinto mistero del dolore ci mette davanti Gesù crocifisso. Pensate, nel 1931, Gandhi, non cristiano, venne in Europa, andò a Londra, stava perorando la causa dell'indipendenza indiana, e vuole passare anche qui a Roma. Andò a visitare la Cappella Sistina. Quando uscì, gli chiesero, cos'è che l'ha colpito di più? Sentite cosa rispose, il crocifisso che è sull'altare. E noi guardiamo sempre il crocifisso, forse abbiamo perso lo stupore. Lo stupore di guardare il crocifisso, perché dal crocifisso parte un urlo di amore, un urlo di bontà, un urlo di misericordia, che pochi sanno ascoltare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amma. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O San Michele, Arcangelo, difendici nella lotta, si tu il nostro aiuto contro la cativeria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di Lui, preghiamo supplichevoli. E tuo Principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana. E tutti gli spiriti maligni che si agirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina. Madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi ai suoi figli di Eva. A te sospiriamo, cementi e piangenti in questa valle di l'anima. O Susu, che ha una caccia nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E dimostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre di Cristo prega per noi. Madre della Chiesa prega per noi, Madre della Misericordia prega per noi, Madre della Divina Grazia prega per noi, Madre della Speranza prega per noi. Madre purissima prega per noi, Madre castissima prega per noi, Madre sempre Vergine prega per noi, Madre immacolata prega per noi. Madre degna d'amore prega per noi, Madre ammirabile prega per noi, Madre del Buon Consiglio prega per noi, Madre del Creatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi. Madre di Misericordia prega per noi, Madre di Misericordia prega per noi, Madre di Misericordia prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergine, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del santo rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina del santo rosario, prega per noi. Regina del cielo, prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Regina del cielo, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi la Tua grazia, oh Signore, nei nostri cuori. Perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Tuo Figlio. Seguendo la via della croce ogni giorno possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Per intercessione di Maria Immacolata, vi riempie il cuore di tanta pace e di tanta serenità. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Dovunque andate, portate il frutto della preghiera. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.